ciao a tutti ragazzi e ragazze benvenuti e bentornati sul mio canale oggi continuiamo la costruzione della macchina di ritorno al futuro la deloria numero 88 andiamo a vedere le cose da fare in questo numero qua ci dice di inserire le cinture di sicurezza nei pannelli laterali nella nostra deloria per prima cosa ho messo la cintura di sicurezza nel pannello con una semplice vite dobbiamo applicare nella carrozzeria della deloria in questo modo posizioniamo il pannello così dobbiamo mettere una vite dm in questo buco bisniamo riproviamo non è così semplice come sembra ecco forse così è meglio ecco qua viene un po storto ma ce ne faremo una ragione un altro cacciavite più grosso ecco qua nello stesso lato mettiamo il pannello da questa parte qua abbiamo un piccolo pack i due buchi e mettere le vite qua c'è un foro devo trovare modo di applicarlo nel foro ecco fatto prendere due vite dm e stringere e stringere troppo perché altrimenti si spacca qua il pannello ok direi che abbastanza ora giriamo la nostra deloria e facciamo la stessa cosa dall'altro lato qua ho messo anche un'altra cintura e andiamo a mettere la nostra bella vite cominciamo a stringere ecco fatto nel senso lato mettiamo il pannello questa parte ecco fatto prendiamo le nostre due viti cominciamo a stringere ecco fatto ecco fatto gli ecco foto ecco fatto ecco 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 la prima vita è andata mettiamo la seconda ecco fatto nostri pannelli sono messi l'ultima cosa che dobbiamo fare aprire le portiere e mettere due viti all'interno delle portiere quindi mettiamo la macchina in questo modo ho perso una vite eccola diamo la macchina così togliamo lo scotch e apriamo una portiera e mettiamo la vite qua sotto non si vede perché è nero ora prendo pacchetto così mettiamo due viti fp solleviamo altra volta il pannello devo mettere la vite ecco qua ecco qua cominciamo a stringere dobbiamo trovare il buco perfetto ecco sempre che l'abbia preso andiamo a cacciare il più grosso vediamo che succede direi che ci siamo ok la stessa cosa facciamo dall'altro lato diamo la nostra macchina togliamo lo scotch che teneva insieme la portiera e apriamo la portiera prendiamo la nostra vite e mettiamo questo buco qua sperando di questa non è questa sembra tutto uguale le vite allora vediamo se becco il buco va bene questo ecco preso ecco fatto il nostro numero uscita numero 88 è concluso andiamo avanti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti